Razionalità, autenticità e scintilla. L'estrema razionalità a volte può essere in contrapposizione con l'essere autentici. Autenticità è mostrare la nostra vera interiorità al di là di quello che vogliamo apparire o che crediamo di essere. Nell'autenticità dimora una scintilla e ogni scintilla scocca grazie a un evento che la fa brillare. Se pensiamo alla scintilla più grande pensiamo al Big Bang, la scintilla che ha creato il nostro mondo. Immaginiamo l'origine del tutto, il vuoto cosmico, il buio e poi d'improvviso la luce. Ognuno di noi ha in sé una propria scintilla di autenticità. La storia della mia scintilla ve la racconto attraverso una mia personalissima interpretazione di una delle opere più conosciute al mondo, La primavera del Botticelli, che narra di una rinascita così come accade ad ognuno di noi dopo un periodo difficile. Ma partiamo dall'inizio. Come ogni storia che si rispetti anche la mia inizia con C'era una volta. C'era una volta una bambina di 5 anni in un paesino nei dintorni di Milano con una copertina di Linus sempre con sé, un astuccio pieno di matite colorate e il fiato un po' corto. Come tutte le bimbe di quell'età vivevo in un mondo giocoso e sognante. Avevo due grandi cose, un'immaginazione prorompente e l'asma. In compagnia dell'asma la mia infanzia era scandita da lunghe e noiose giornate solitarie che però lasciavano grande spazio alla mia fantasia di bambina sognante. Quel mondo lo chiamavo la mia bolla. Era popolato da diverse creature, dalle sembianze oniriche, gentili e coloratissime, che presto divennero i miei amici immaginari. Poi sono guarita dall'asma e mentre tutti i miei amici perdevano il loro amico immaginario, io ce l'ho sempre con me. Lo vedete? Sono guarita dall'asma ma non sono mai guarita dall'immaginazione. Avete presente quei luoghi che tendiamo a tenere nascosti per noi? quelle attività che ci rilassano? Ognuno di noi ne ha uno. Ecco, quella bolla fanciullesca rimase per me per anni in un posto prezioso e intimo e solo recentemente ho scoperto quanto questa mia passione per dipingere possa essere anche importante per la mia carriera lavorativa. Il mio amico non poteva rimanere da solo e così ho iniziato a disegnarlo e quaderno dopo quaderno sono nati anche tutti gli altri amici immaginari. Come tutti i neolaureati anch'io ho fatto un sacco di gavetta. Ho sempre studiato, lavorato, un sacco di fatica. Poi nel 2016 la svolta. Mi chiama una multinazionale americana per ricoprire la posizione di general manager. Mi affidano un team di tante persone e la responsabilità di milioni e milioni di fatturato. Immaginatevi come mi potessi sentire in quel momento, a dire il vero un po' come mi sento io oggi qui a parlare davanti a voi. L'azienda aveva grandi aspettative, il fatturato doveva crescere, una sfida importante. Così come nella primavera del Botticelli, Zefiro, il vento di primavera, insegue la ninfa Clori della quale è innamorato, anch'io inseguivo le mie passioni, i numeri. Sono sempre stata affascinata e appassionata di numeri, talmente ossessionata che avevo raggiunto tutti i risultati di vendita e anche superati e tutti i miei collaboratori avevano preso il bonus. La descrizione della manager perfetta, non pensate anche voi così. Poi esce il tanto atteso sondaggio aziendale sul gradimento dei dipendenti. Mi ricordo in particolare due domande. La prima, il vostro capo si prende cura di voi come persone? La seconda, le vostre opinioni contano? Non vedevo l'ora di vedere il risultato, era la mia prova del 9. Escono i risultati, vado nell'ufficio di Serena che è la responsabile delle risorse umane. Mi mostra un foglio con la media dei risultati, da 0 a 5. Secondo voi quanto posso aver preso? 5 ovviamente. Guardo il 5, faccio un bel sorriso, Serena mi guarda e mi dice ma ti rendi conto. Riguardo il foglio, quel 5 era un 2. Ero talmente convinta di aver preso il massimo dei voti che avevo letto il foglio al contrario. Così il mio team mi aveva bocciata come leader e io non ero per niente consapevole e dire che pensavo che i numeri fossero tutto. Così cosa faccio? Decido di fare e adottare ciò che ho sempre desiderato al mondo. Adotto un gattino, amo da pazzi gli animali e ho iniziato così a prendermi cura anche un po' di me stessa al di fuori del lavoro. Però dopo poco tempo sarà stato il pelo del gatto, sarà stata la delusione per il sondaggio, si ripresenta l'asma. Mi sono dovuta allontanare dal mio adorato gattino e prendere un periodo di convalescenza dal lavoro. In quel periodo di estrema solitudine e fragilità mi rifugio nella mia bolla da bambina. Mi ritorna prepotente l'immaginazione e mi lascio andare senza limiti alla fantasia e alla creatività, accettando e riconoscendo quella mia parte più intima ed emozionale. Dai miei quaderni sono nati poi i Barabubbles e hanno iniziato a popolare grandi tele fatti ad acquerello. Ho dato loro anche un nome e un carattere per renderli ancora più intimi e personali. Tutti noi ci possiamo riconoscere in ognuno di loro. Per esempio, Barabà è il nome del personaggio che più mi rappresenta, forte e impaziente. Boda, empatico e relazionale. Occo, socievole e creativo, finolu, preciso e razionale. Loro sono i Barabubbles e nascono dalla mia bolla da bambina. Così, tornata al lavoro, avevo capito tante cose, capito quanto la razionalità poteva convivere in armonia anche con le emozioni. Grazie al mio team ho capito l'importanza di tante cose. Ho portato con autenticità anche la mia arte sul lavoro. Ho iniziato a comprendere, a capire il bisogno del mio team, a volergli bene e anche i Barabubbles hanno iniziato a lanciare grandi cuole per far vedere il loro lato gentile. Tutti noi proviamo emozioni e diciamocelo, ci piace anche tanto, ma sul lavoro tendiamo a reprimerle pensando che siano in contrapposizione con la professionalità o con la carriera. Invece, per me, mostrare i Barabubbles, la mia arte e le mie emozioni al mio team, ha permesso la creazione di fiducia, un ambiente armonioso e creativo dove l'errore non esiste. I Barabubbles ci hanno aiutato ad abbassare le gerarchie, a conoscerci meglio e a sostituire l'idea di errore con il concetto di idea propulsiva incrementale che rimanda all'idea del viaggio, della sperimentazione, dell'errare, sospendendo il giudizio. Così, come nella primavera del Botticelli, è nata Flora. Per il Botticelli la primavera, la rinascita, impersonata da Barabà, la nuova Isabella. Ho capito proprio che questa unione mi metteva molto di più in bilanciamento, razionalità, emozioni, lavoro, vita privata. La Venere, al centro del dipinto, rappresenta ognuno di noi nel nostro momento di pace, di equilibrio, quel senso di completezza. E poi, Finolu, ve lo ricordate, quello laggiù in fondo? Lui è il preciso, è Mercurio, interpreta Mercurio, che cerca di scacciare tutte le nuvole, perché vuole mantenere una primavera perfetta. Ma si sa, i temporali arrivano inaspettati. E allora, proviamo a fare un po' come Mercurio, a tenere lontane le nume dell'estrema razionalità. Facciamo scoccare la nostra scintilla e portiamola con autenticità in giro per il mondo. Un'ultima cosa, il biogattino sta benissimo e lo vado a trovare ogni tanto dalla mia cara amica. Ciao a tutti dai Barabubbles!